C'è la mami? Ciao mami! Eh? Che bello avere un figlio che si riduce così, non è vero? Sei fiera di me? Li ringrazio scorinzolando, è il massimo che posso fare. Via! No, Giacomo, no. Cioè, ci sono ma non sono attivi perché non funzionano correttamente, quindi bisogna aspettare. Peter è mago! Qualsiasi cosa voglia dire, adesso vediamo. Salve! Salve senza pinne! Hai tutta la mia stima, già solo per il costume. Ehi, sto man. Vabbè, ma con 9 per lo fai in un'ora il platino. Eh, certo. Perché cazzo andate cercando? Ehm, aprire il portale. No. Chiaramente io sono ignorantissimo di cosa giocheranno i miei avversari, eh. È ovvio. È parte della bellezza. È parte della bellezza di questa serata. Non avere la più palida idea di cosa potrebbe succedermi. Mi sa che Vicious dovrà fare qualche modifica alla classifica degli streamer. Però secondo me. Andiamo un po' più in basso. Quest Mage! Oh mio Dio, quanti ricordi! No, non è lo stesso deck che conosci tu, my friend. Te lo garantisco. Allora, sbarrà. Ma sì, diventa un drop a 6. Uuuuh, Silvia! Così? Wow. Wow. Tranquillo, lo scoprirai tra due turni massimo tre. Perfetto. Beh, devi ancora 0 di 8, eh. Dai. I have no time for games. Guardate che bello l'occhio del Totodillo. Eh? È carino, dai. È un bel costume. Fatto su misura, eh, questo. Mica... Mica cazzi e fii... Eh, no. Pizza e fii. Com'era? Beh, quella roba lì. Mica quella roba lì. Tral lo scruta a morte. Ma così, a tradimento? Ma se invece io mi prendessi... Un altro drop a 6... Ma che cazzo ci faccio io con Silvia, però? Grande, Fabio! Grazie per i cheer! Thank you! Ma sai che... Farò una cosa... Drop a 8? Va bene, dai. L'importante per me era anche ciclare, no? Tuo sommato, quindi... Vabbè, ho visto dei drop a 8 più forti, però... Non è terribile. Un giorno... Di già? È finita? Abbiamo perso? Sei fiero e temibile. Mi ero sbagliato. Ah 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 ah! Hai visto? Fabio, grazie davvero. 400 bits. Sono un botto, man. Mi sono un po' cagato addosso. Ok. 4 spell, già. 4 spell, già. Quanti segreti ha... Cazzo sta succedendo, chat? Da vichingo a dinostreamer? Un attimo. Dino streamer? Cos'è un dinostreamer? Ma la madonna? Chat? Ma... Il mio tempo sta per scadere. Ma la madonna? Guarda questo che ha trovato la spell davvero per finire la quest. Ma... Il turno 5 è finito da questo. Wow. Mi fanno ancora... A terra! Eh vabbè. Sono il gelo cuore del flacento. Ok. È partito da 0-8 progressi. Ha fatto 8 progressi su 8. E... Ha fatto 3 segreti. Nel frattempo ha pescato 4. E ha fatto board. Turno 5. Che bello giocare Wild, ragazzi. Chiaramente... Chiaramente. Eccolo lì. E lui gioca da solo. E ma io... Vestito così rischi di finire su Trolden? Spero di no. Sarebbe una beffa. Ma lui ha tradato. Credo. Ragnaros. Ma quello è un board, eh? Quello è un board, eh? Dica male. Non è un brutto board quello, eh no? Però lui ha usato la quest. Se non è se sopravviviamo adesso... Cioè, tecnicamente tu la quest la usi per vincere. Ecco, infatti. Cioè, tecnicamente tu la quest la usi per vincere. Lui non l'ha usata per vincere. Quindi... È chiaro che... Non siamo messi bene allo stesso. Allora, la prima cosa che faremo è vedere counterspell. Non era counterspell. 4-mana 7-7! Ma... Chat! Ma scu... 4-mana 7-7, chat! Ma che cazzo! Non me lo merito. Porco... Non me lo merito. Era meglio prima. Eh, praticamente sì. Che è sta roba? 5-mana... Cioè... 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 Dai! Ma come si fa? Si stava meglio quando si stava peggio? Attenzione a 5-3, rush! Occhio alla penna! Occhio alla sua volontà! Venito! La carne è sottile! E il cielo accompagni la tua vittoria! Aia! Uther! Occhio alla sua volontà! Che caldo, chat! Sto crepando! Ma la tua anima sarà mia! Mamma mia! Mi batterò con onore! I miei poveri capelli! Allora, sono abbastanza certo che noi... Abbiamo bisogno di cercare la lente prismatica ASAP! Dico bene? Quindi? Ma si può sapere quando cazzo vince questa partita? Cioè, quando vinceremo noi una partita, intendo, con questo deck? A far che... Cioè... Ok, devo capire. Quindi, settimana prossima, speciali di Trollden, tutto su questa live. Se continuiamo così. Solo se continuiamo così. Se ci diamo da fare, no. Questo lo vinciamo noi. Almeno. Pensalo come un OTK. Ma non è vero, perché... Posso piscarci le spell io con... Cioè... Con ira sacra, eh. Io ci potrei prendere di... Delle spell al costo 1 o a 0, come è successo prima. Che OTK. Duello. T4, coin ira sacra. Devi trastare. Ah, cioè, devo fidarmi di 1 su 22? Secondo te perché si chiama 888? Credevo che fosse per... Queste 888. Mettiamo alla prova il nostro coroce. Non sei abbastanza veloce. Allora, e... Il pezzo da 25 ce lo siamo tolti. Adesso vediamo gli altri. Oppo non aveva minion migliori di 1, 2, 1. Comunque. Ok. Eccola la lente. Questo sì che mi rende felice, vedi? Oh, vedi? Sì. Sì. Ah, io trasto, trasto. Trasterò assolutamente. Baionetto! Grazie mille, man. 3-5. Sei uno sfigato che la metà basta. Ma grazie a questo riesci sempre a strapparmi un sorriso. Grazie. Love you. Keep up the good work. Ma lol. Turno dopo tira ira. D'accordo, d'accordo. Con la lente avrai dei macigni ingiocabili. È vero? Ho fatto due mano 8-8. Piaga comunque non crea problemi nel gioco. Piaga non crea nessuno scompenso. Quindi adesso noi facciamo ira sacra. Quasi finito il tempo. Non ho idea, veramente. Ok. No, ho fatto pesca. La sei mano 8-8. È figo comunque come cosa. Potrei fare la naga? Questa costa due. Questa adesso viene quasi gratis. Little. Quasi little. Ah, ma solo fino a che quella troia è in campo costano 5. Questo me ne ero perso io. Allora go. Stop! Chat, due su due chat. Due su due! Due su due! Due su due! Che cosa devo fare? Io sto cercando di ammazzarlo prima che giochi Blood River Gul'dan. Ne ha due. Ha due Gul'dan. Cioè sto cercando di ammazzarlo prima. Lo scorda. Avanza. Ma cosa devo fare? Ma cosa devo fare? Dai, allora. Molten Giant. Uno su tredici. Molten... Giant. Molten. Sbra! Beh, 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 beh. Non è che potevo prendere di meno, eh, ragazzi. Cioè, capiamoci. C'era solo Deathwing e i Shari a meno del 12 danni, eh. Perché sia chiaro. Chiamate la Croce Rossa a cui abbiamo donato perché io stasera muoio. Mi fa piacere, mi fa piacere. Cioè, non che tu muoia. Vedi? Cioè. Questo mo' fa live steal. Cioè, un problema. Un problema serio. Eh. Questo mo' ha un problema serio. Eh. I Shari. Che tira fuori... Boh. Non lo so. Go. Steen in ang. Si è appena passato da artista alluminare dello slot. Roll. Sì. Sì. Sì, vabbè. Malganis, Dio Bono. Ma che stai a dire? Malganis. Ma che stai a dire, Malganis? Ficca. Malganis. Chat, no. No, Malganis no, cazzo. No, Malganis no, cazzo. Questo masochismo all'improvviso... Non è all'improvviso. Programmato da un mese, Lori. Programmato da quando abbiamo fatto la donazione alla Croce Rossa. Questo purtroppo è la mia penitenza. Uh, baby. Uldji look at that. Non scusinolare, please. Devo. Quando vedo qualcosa che mi piace... Sempre. fatti fare coaching dal duca così mi insegna a giocare olivrat senza pescare la spella zero dite che ha importanza pensa che ancora pensa che ancora uno non zot e un altro guldan lo so che è un altro guldan infatti lui lo gioca adesso giocherà ora cioè lui farà sto trade della 5 7 poi giocherà l'altro guldan comunque se non avessimo fatto esattamente zero ma un risultato nella media tipo 10 effettivamente potevamo effettivamente potevamo farlo non lavorerai mai più ne sei consapevole mi fido che l'attenuante della beneficenza alla croce rossa possa funzionare nel giustificarmi giordano mi fido non so se faccio bene a fidarmi però mi mi piacerebbe moltissimo tirare consacrazione però qualcosa mi dice che non succederà perché costo 12 un po tanto è un altro malganis comunque non so se cioè non è che non so se non abbiamo chance cercherò di fare un turno di strega gigante di magma e poi non lo so però buonasera pitt bene bene dai meglio del previsto solo che fa un caldo bestia qua sotto magari lui sbaglia già il fatto che lui non stia giocando immediatamente malganis è già un grande successo per me che sta succedendo anche godfrey che bel meta bilanciato chat non si scherza con me e noi abbiamo finito di giocare chat doppio giant ha anche reno come anche reno gioca le doppie copie come anche reno anche reno beh in realtà lui c'ha l'altro guldan se giochi mazzi troll non puoi lamentarti che perdi contro il tir 1 ma io non pretendo di vincere dico però che quelli che vincono lo fanno in dei modi poco interattivi ecco diciamo poco interattivi anche la madre p probabilmente si è parecchio pure va bene beh in realtà ieroti andrebbe molto bene fare il mod del canale perché cioè fare peggio di janfr molto difficile cioè nel senso ormai lui mi ha temprato io non posso più incazzarmi quei mod letteralmente uno dovrebbe boh non so che cazzo dovrebbe inventarsi uno per farmi arrabbiare non posso più vedere i messaggi cancellati giacomino quanto quando prendi per partecipare a una festa di compleanno vestito così quando da se neanche la domanda buona riesce a farmi prendo il 7 di hearthstone ma se ti incazzi sempre ma vada bugiardo dirti che sei brutto contadino è compito dei mod dire sempre la verità c'è un islander mage da 30.000 polveri ti consiglio di provarlo no mi ha passato un mazzo wilson adesso lo sbircio lo gioco mi ricordo ancora quando draftasti un mazzo con tre valletti attivandoli sempre con segreti e firelands portal annessi i 12 win più facili che abbia mai visto me la ricordo anch'io questa cosa vagamente dai vargot vargot peccato grazie di aver giocato adronox druid man è stata una sensazione unica meglio di fare l'amore con la mia tipa wow il costume è fatto a mano o esiste davvero in commercio credo che sia fatto su misura non capisco davy jones perché perché se esistesse in commercio te lo compreresti fammi capire un attimo sono entrate le zanzare chat perché c'è una finestra spalancata la gente ha le fantasie strade qui in chat è già è già oh madonna 82 sub so close ai 100 re no in realtà me lo aspettavo secondo voi ce l'ha polimorf di mazzo secondo me non ce l'ha polimorf di mazzo mo ya tiro mo ya tiro credo che esista su qualche store cinese tipo aliexpress turbo 5 10 mana fucking ah turno 5 10 mana fucking balanced potevamo fare anche di più nate potevo fare anche di più soffio arcano ma c'è la versione del costume senza totodillo ma solo con vick chiamata dell'evocatore ovviamente mannaggia e questo più uno più uno ai tuoi servitori shie shie dai dammi dammi vargot dammi vargot 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 chiste non maggio fai tente tu si strunz a fesse sorte ogni tanto devo fare così perché non vedo un cazzo vedo solo fino a qua se no non alzo la testa il cazzo ci ho voluto decisamente più impegno e infatti onion lo immaginavo prossimo obiettivo tagliarsi barba e baffi cosa dobbiamo fare? no devono riaprire i i barbieri io mi tingerò i capelli di viola sempre per lo stesso incentivo dei 9000 euro mi devo tinger i capelli di viola e poi devo studiare la no death run di bloodborne devo fare bloodborne senza mai morire e domani teoricamente volevo fare randomizer di sekiro c'è la conference di xbox quindi probabilmente la inizierò inizierò comunque la render randomizer alle 3 però poi verso le 5 guarderemo la conference di xbox allora lo faccio adesso perché sennò dopo fa lo faccio adesso perché sennò dopo fa reno il reno reno non mi piacerebbe non la prenderei molto bene voglio essere sicuro di ammazzarlo devi fare factorio e la serata dedicata a davide 504 grazie gian di avermelo ricordato ti stavo per togliere il mod però poi devo ridarti anche l'editor a mano non c'ho voglia crudo rispetto meglio di far l'amore con la propria tipa no però ammetto che coloro la tipa in questione appartenga all'ultima espansione è la tipa sasso te la giochi non male la tipa sasso sexy sexy speriamo che stavolta non vendono ssd no 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 stavolta no ci sono i trailer di giochi non microsoft però eh quindi occhio 5 di pomeriggio o di notte di pomeriggio domani sera non ci sono zilli axo hai capito zilli axo oh baby boy jesus questo me lo tengo eventualmente per reno e i lattici di celeste assolutamente buonasera buonasera man ma quanto sei figo in modalità totodillo pronti per lo spettacolo grazie grazie di circonza puzzle box che parte con una nova mica male ma doppia nova veramente cioè devi quasi pulirmi board davvero uuuh uuh 10-3 7-3 ammazza la fine sta arrivando è una 1-8 lol cosa stai facendo 2 più 2 è una bestia man stang ovviamente potremmo ammazzarlo ma dove è il bm go tanto anche questo board è bello divertente da rimuovere guardate attentamente guarda attentamente guarda attentamente anche tu osserva oh mio dio what ma attenzione attenzione lo specchio come possiamo diventare ricchi attenzione allo specchio dell'anima non credo che esistano delle spell migliori esisteva una spell migliore di quella esisteva una spell migliore chat mi dona la coda Libbo mi piace un sacco scotinzolare pre-sub mi dissocio come possiamo diventare ricchi piaga del priest si chiaro ma in realtà non è detto perché lui pure ha dei baithound mi sono allenato mi sono allenato l'azzurro ti dona grazie Andy naturalize sono un off fallo pescare ancora ma non su Vargo cura 8 come cura 8 non erano questi i patti ti vedo un po' in difficoltà in riuscire a guardare lo schermo con quel coso come possiamo diventare ricchi cazzo Sherlock i capelli in avanti quando alzi il muso per dire mi dissocio sembri troppo Paul McCartney da giovane ora siete nelle mie gagne uh la tormenta tira fuori due pezzi giganti ma non serve ore potrei tenerlo così sarebbe bene potrei tenerlo così sto tenendo il muso in avanti per ridere così si regge teoricamente zang ferocious howl nanna backstab non sto capendo loppo giuro neanch'io io sto sperando in nesoth nesoth vorrei nesoth così sembra che sei rimasto incastrato nella gola del totodillo che figo come capitano uncino quando viene mangiato dal coccodrillo spugna blizzard da vargot era brutta per loppo non veniva fuori perché è la pellegrina a castarlo quindi tecnicamente non 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 veniva fuori blizzard andy dimmi te se ti sembra una playlist dimmi te se ti sembra una canzone d'arthstone ne questa è farina del mio sacco tutto nell'ordine giusto sta facendo lui letteralmente qualsiasi cosa poteva sbagliare una sbagliata qualsiasi cosa potesse sbagliare tutto scrapyard colossus eccolo qua evitiamo di giocare board suppongo no nesoth il male di sepolto e l'ha mischiato nel mio deck madonna l'excavete d'evil 5 mana 3 danni a tutti mescola questa carta nel deck e l'oppo che ricordi ve la ricordate chat beh comunque l'excavete d'evil gli ha messo un board da flamestrike clamoroso o da zeffries stiamo rischiando grosso adesso se tu sei capitano uncino e il totodillo e il coccodrillo spugna chi è la sedia incastrato nella gola del totodillo più come in d'oro per chi lo conosce ovviamente non so che cazzo stai dicendo tesoro no grazie shiva sei sempre una grande esperta ciao jantor o i jantor o i jantor dai eh guarda guarda lì quel cazzo di quella spell casuale quanti trade ha abilitato mannaggia ms 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 uh forma d'ombra attenzione dark reno l'avevate mai visto chat Sephiroth Guarda il sorriso Dark Quanto cazzo sembra un cattivo Adesso che sono cambiati i colori Sembra un cattivo della Disney Dark Reno Pazzesco Dark Reno Ammiratelo Perché questa è una cosa più unica che rara Non vi capiterà mai più Presenza d'ossa Sono appena arrivato Mi sono già innamorato Ciao Noah Excavated Evil Cazzo se faccio Ragazzi se faccio un zotto concede Se faccio un schiffen concede Credo che farò solo il colosso Solo il colosso Per evitare che conceda Young cucciolino Bella Ma nessuno gioca il priest Con l'euro power a zero Non ne ho beccati Non ne ho beccati per ora Quanto sei virile Tantissimo Sto pagando pegno Propongo di aumentare Le meraviglie del mondo A otto Che carino Sono appena arrivato Noto che il vichingo Ha una felpa stupenda Azzurra e larga Poi vedo che Quel costume E niente Ancora meglio Se la prende Secondo voi Se faccio un zotto Credevo di avere più tempo Probabilmente concederà Però d'accordo Tutti i prime E Adronox Ancora Per nove mana Ho visto di peggio Per dieci mana Ho visto di peggio Un'altra tormenta Eh già Ce ne vogliono Cosa sto vedendo Perdonami Lollo Stai vedendo uno streamer Che tu non segui Abbastanza A quanto pare Perché questa roba qua L'ho annunciata Per un mese di fila Per dio Pezzo di merda Lollo Però stasera Io scudizzo Per tutti i sub Grazie Grazie Lollo Ti voglio bene Mi sei mancato Mua 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 Credevo di avere più tempo Mage Resident Sleeper È abbastanza Abbastanza Ce la facciamo a vincere Ma il totodillo con i baffi E la barba Mi mancava Ah ma sei tu Vic Mad scusami Fortuna a te Che mi strappi un sorriso Mentre trovo solo Egg Warrior E Demon Hunter Mister Torchio Ti abbraccio forte Fai un bel sellout Da totodillo No Ne ho fatti 10 Stasera Basta Sapete solo che Vorrei scudinzolare Fino ai 100 sub Stasera E basta Ma non voglio fare sellout Non è il motivo Per cui faccio questo streaming E lo studio dei draghi E lo studio Dei draghi Sembra che anche tu Conosca qualche trucchetto Magnifico Hoorayccings Grazie a tutti Gevi A presto E E I Grazie per la visione!